Certo che sono una coppia perfetta, mi commando. Oh, poverino, non essere triste. Io sono qui per te. Su, caro, perché pensi che nessuno ti ami? C'è il tuo pezzo perché questo sono... Oh, oh, aspetta, c'è Topolino. Scommetto che impazzerete per questo cartone. Perfetto, amico mio, stai andando bene? Minnie scoprirà di avere già un fidanzato sofisticato. Oh, spero veramente che funzioni. Non toccare, bella, non è la biblioteca. Che sta succedendo? Non hai sentito? Sembra che Minnie voglia un fidanzato più sofisticato. e Topolino sta cercando di diventarlo in un battivaleno. Io ci sono riuscito. Oh no. Cappello con piuma, calzamaglia, gorgera, soprattutto gorgera. E non dimenticare il bouquet. Asciuglie sotto il speciale. Perfetto, amico mio, stai andando bene? Minnie scoprirà di avere già un fidanzato sofisticato. Oh, spero veramente che funzioni. Non toccare, bella, non è la biblioteca. Cappello con piuma, calzamaglia, gorgera, soprattutto gorgera. E non dimenticare il bouquet. Ah, così va molto meglio. Ehi, dove è scoppiato l'incendio? Non può scappare adesso, è ora dello spettacolo. Ehi, gente, le chiacchiere dicono che questo cartone vi piacerà. Perfetto, amico mio, stai andando bene? Minnie scoprirà di avere già un fidanzato sofisticato. Oh, spero veramente che funzioni. Non toccare, bella, non è la biblioteca. Che sta succedendo? Non hai sentito? Sembra che Minnie voglia un fidanzato più sofisticato. Il topolino sta cercando di diventarlo in un battivaleno. Io ci sono riuscito. Oh, no. Cappello con piuma, calzamaglia, gorgera, soprattutto gorgera. E non dimenticare il bouquet. Deve essere... Ecco. Pulita, sì. Ma come faremo? Non abbiamo attrezzi. Sauri, non esistono. Non ho riconoscervi. Semplice, barba forte. Le stelle marine hanno cinque punte, non sei. Conta meglio la prossima volta. Ho capito. Penso che qui... Oh, poverino, non essere triste. Io sono qui per te. Su, caro, perché pensi che nessuno ti ami? Sei il tuo pezzo. Perché quello sono... Oh, oh, aspetta, c'è Tupolino. Scommetto che impazzirete per questo cartone. E ora? Cattivone! La terremo qui con noi, che ne dici? D'accordo, Pluto. Riportiamola indietro. Incredibile, hanno risolto il puzzle. È una conchiglia. Oh, adesso troppe macchine da corsa. Come facciamo ad arrivare alla porta se le macchine da corsa ci bloccano? Che divertimento con le nuove Pini Pon. Nuove pettinature. Hanno i capelli veri. Sono sportive. Con l'isci e la sciarpa. Sono fatine. E profumano di frutta. Che carine. Questa sarà la vostra casa. La nuova collezione delle Pini Pon. È meravigliosa. Samosa. TipToy. Il sapere prende vita. Ma come si divertono. Eh sì, grazie a TipToy, il nuovo sistema digitale per giocare, scoprire, imparare ed ascoltare. Ah, è un tablet per bambini. No, molto più ricco e divertente. Funziona con giochi, libri, puzzle e il globo. TipToy, la rivoluzione del gioco interattivo. Softime il mito slime. Ehi, questa valigetta ha qualcosa di mai visto prima. Lo allunghi. Rimbalsa. Lo spalmi. Lo mescoli con le magic balls. Così morbido e col... Tanti profumi diversi. Lo porto sempre con me. Softime il mito slime. In edicola. E... BAMBAAA! Sono brutti, fanno i rutti, se li schiacci. Brutti. Brutano davvero! Billy Mocho, Rudy Bonito, Jimmy Chigno. Tenti al ruio. Sono brutti, fanno i rutti, se li schiacci. Brutti. BAMBAA! Ecco i teneri avventurieri, barba papà. Viaggiano per il mondo intero, barba mamà. Qua e là di là di qua, si trasformano a volontà, per aiutare qui e là, tutti quelli che ti incontreranno. BAMBAA! BAMBAA! Sono Lady Giorgia e i macarons sono tornati! E sono BIG! Per ancora più divertimento, softi slime super morbido. Tanti colori da mixare, per crearne sempre nuovi. E nei macarons ci metti quello che vuoi tu. Big macarons nel mito slime. BAMBAA! 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 Time to rest for me and you. Cosa ne dite di questi disegni? Non si sembrano delle foto. Shhh, barba barba, stai zitto. Lulita da... BAMBAA! BAMBAA! Barba papà ha detto che bisogna stare attenti alle mamme di rinoceronte. Diventano aggressive quando si toccano i loro piccoli. Here they come the sweet adventurers, barba papà. See them as they travel the world of barba papà. Over here and over there, transforming into any shape. To help here and over there, those looking enough to meet them all.